Nell'immagine collettiva sembra niente, ma la calcolosi può essere ad altissimo rischio per tutti i soggetti. Soprattutto nelle situazioni in cui la calcolosi non viene diagnosticata, non dà sintomi e decorre per tempo in maniera silente. In questo caso noi abbiamo delle situazioni molto critiche, che i reni vanno incontro a danni irreversibili e addirittura poi quando si va a trattare il paziente o la paziente si possono avere rischi per quanto riguarda i problemi di tipo infettivo. La complicanza del calcolo si ha prevalentemente quando il calcolo si sposta e crea ostruzione. Sono rappresentate fondamentalmente da due situazioni, dall'idronefrosi, cioè dalla urostasi, cioè quest'urina che non scende perché c'è ostruzione, che l'idronefrosi è all'inizio, possiamo avere un'idronefrosi sintomatica, quindi con colica, una idronefrosi senza colica, avere solo un senso di peso al fianco dove è localizzato il calcolo o addirittura non avere nessun tipo di fastidio. E' questo quello più pericoloso che poi ci porta al danno renale in maniera irreversibile. L'altra complicanza importante è che a noi urologi e quella che ci fa sempre paura sono le infezioni. Nel momento in cui abbiamo un ostacolo al deflusso, quindi si ha un'astase, facilmente il calcolo si infetta. E' importante fare prevenzione. I fattori di rischio li possiamo dividere in due gruppi, fattori individuali e fattori ambientali. I fattori individuali sono rappresentati dal sesso, dall'età, la familiarità, disordini metabolici e malformazione dell'apparato urinario. Il stesso dobbiamo ricordare che sono più colpiti i maschietti, nell'età compresa tra i 30 e i 50 anni. Per quanto riguarda invece i fattori ambientali abbiamo il clima, quindi un clima tipo il nostro, che è un clima caldo-umido, favorisce la formazione di calcoli. Le condizioni socio-economiche, più aumenta il benessere e peggio è per quanto riguarda la calcolosi. L'attività lavorativa è anche importante, le abitudini dietetiche e la sedentarietà. L'assunzione dell'acqua è fondamentale, perché il calcolo in effetto che cos'è? E' una massa solida che si forma all'interno dei reni per precipitati di cristalli, che all'inizio i cristalli formano la renella e poi questi diventano dei calcoli veri e propri fino ad arrivare a dei calcoli più grossi di una pallina da golf. Quel loro spostamento determina poi la colica. La prevenzione alla base è bere l'acqua, l'unica vera terapia che ci dà i risultati è bere acqua. Bisogna assumere almeno due litri, due litri e mezzo di acqua al giorno. L'altra prevenzione che bisogna fare soprattutto nei soggetti a rischio è di cercare di fare delle diete ipoproteiche e normocaloriche.